In occasione della 63esima giornata del ringraziamento organizzata dalla Coldiretti Toscana, in piazza San Giovanni gli agricoltori fiorentini si sono ritrovati per ricevere la benedizione dei frutti della terra e dei mezzi agricoli in occasione della Santa Messa in Battistero. Ad animare la piazza anche caprette d'asini. Monsignor Giovanni Momigli, direttore per la pastorale sociale e del lavoro, alla fine della funzione delle 11 ha così benedetto i mezzi agricoli e gli ortaggi, l'olio, le confetture e il miele posizionati sotto l'altare. Poi i trattori hanno sfilato rumorosamente per le vie del centro.